Buon giovedì e bentornati a World News 24. Il governo starebbe valutando l'ipotesi di progare lo stato di emergenza per il coronavirus fino al prossimo 31 gennaio. L'ipotesi è finita sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Conte che si è tenuta a ieri. Dunque si progherebbe fino al 31 gennaio, un anno esatto dall'adozione delle misure. La proga al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare dell'emergenza ha suggerito agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico di allungare i tempi dell'allerta. Intanto la situazione per quanto concerne l'emergenza coronavirus in Puglia rimane un po' preoccupante, vicini ai 100 casi mentre stabili sul territorio nazionale.